Rava, ossia la Torah ci spiega che ognuno e tutti insieme dobbiamo arrivare alla situazione dell'adesione, che questo è lo scopo del nostro sviluppo. L'adesione, ossia la completazione, la uguaglianza con il creatore in tutto il possibile, in tutte le qualità della persona, nella sua mente e nel cuore, desideri e pensieri. Questo è lo scopo dello sviluppo dell'uomo e come l'uomo potrà stabilirsi in questo sviluppo o attraverso le sofferenze terribili, perché questi sono contro il suo desiderio, quello di assomigliarsi al creatore, perché il creatore è opposto all'uomo nella sua qualità di d'azione, amore, o attraverso la luce che riforma, che è l'attitudine della Torah che porta l'uomo all'adesione in una maniera che l'uomo desidera e invita a questo sviluppo. Però in una maniera o nell'altra, o attraverso la Torah o attraverso le sofferenze, si dovrà arrivare all'adesione, che questo già è stato deciso in precedenza. Va bene? È chiaro? Grazie. Grazie. Grazie.